segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te postre riferita la maggioranza o alla lega glielo chiedo premesso che io mi aspetto che le domande me le faccia non so se devo replicare a tutti i punti che sono stati tirati fuori che non erano esattamente attinenti l'argomento e la sua domanda però ci proverò allora la prima cosa che voglio dire che sai anche facile stare all'opposizione e dire facciamo il congetto parentale paritario e aver avuto dieci anni di governo di sinistra in cui non l'ha mai fatto e l'unico inizio l'abbiamo fatto noi scusi io ho sentito tutto tutto il suo discorsone e non l'ho interrotta qui e l'unica cosa l'abbiamo fatta noi sa era facile fare tante cose no dichiarare che volevano abbassare l'iva sugli assorbenti le faccio un esempio poi l'abbiamo fatto noi quindi è facile parlare poi quando si al governo devi dimostrare noi abbiamo fatto un primo passo sul congetto parentale e la presidente meloni ha già detto che è un obiettivo naturalmente comporta delle risorse ma arriviamo al tema che lei ci ha posto quando sento dire la giornalista della stampa e sa hanno detto fermavano gli sbarchi facevano quando erano l'opposizione poi quando sono al governo ma vede noi al governo ci siamo già stati con un ministro dell'interno che si chiamava matteo salvini che fece passare con le sue regole e con le sue iniziative gli sbarchi da 105.000 del governo precedente all'anno successivo a 23.000 poi 11.000 quindi non è vero che non l'abbiamo già dimostrato noi l'abbiamo già dimostrato per questo oggi come lega riproponiamo quelle ricette e la prima che proprio è contenuta nel decreto cutro è quella di ritornare alla disciplina della protezione speciale come era prevista nei decreti salvini cioè di riperimetrarla a quello che è proprio la specialità quindi non la generalità non di eliminarla ma di ritornare a quello nel decreto cutro lei lo potrà vedere e potrà vedere anche la pdl iezi depositata alla camera dove noi precisiamo esattamente questo cioè noi riteniamo che ci sia naturalmente nessuno mette in discussione il diritto di asilo nessuno mette in discussione la protezione sussidiaria ma riteniamo abbastanza incredibile che con la lamorgese dove si è ampliato notevolmente l'utilizzo di questa protezione speciale che è passata quindi a dare ampli margini di discrezionalità su richieste come nel 2023 sulla totale delle richieste il 63 per cento sono di dinieghi il 7 per cento sono di diritto riconosciuto di asilo il 20 per cento era di questa protezione speciale nel 2022 questo ha portato al riconoscimento di 14 mila protezioni speciali che hanno creato sul nostro bilancio una spesa pari a 200 milioni di euro cioè questo ricade poi sui contribuenti la protezione speciale che sento dire da molti commentatori c'è in tutta europa non è vero per esempio non c'è in francia quindi poi il problema è che quando tu dai un riconoscimento di protezione speciale allargata i soggetti che si presentano alla frontiera non potranno mai varcarla perché non è un titolo riconosciuto come riconosciuto da noi e rimarrà nel sistema nostro di assistenza e quindi con i soldi dei contribuenti quindi il primo tema che c'è all'interno di cutro è questo eliminare i vincoli familiari o la stabilità di permanenza che poi significava che magari si diceva che da sei mesi e quindi bisognava dargli la protezione speciale a dei soggetti che poi entravano nel sistema di accoglienza cosa fa anche il sistema cutro bene fa tante di cose però per esempio se qualcuno l'avesse letto perché poi sento molte dichiarazioni poi io non sono al senato però secondo me va visto per esempio incentiva invece quella che è la migrazione regolare perché crea delle semplificazioni sui permessi di lavoro statuisce i principi per il futuro decreto flussi cioè il principio è quello di perimetrare eliminare ovvero possibile l'immigrazione irregolare e disciplinare quella regolare incidendo sui contribuenti il meno possibile per esempio quindi ridurre ridurre il numero dei permessi speciali beh sicuramente la protezione speciale è perimetrata se tu levi vincoli familiari quant'è il numero ora le faccio un esempio le faccio un esempio specifico quando c'era la disciplina salvini sulla protezione speciale le protezioni speciali il numero quell'anno date fu di 737 con la lamorgese abbiamo avuto il primo anno 7 mila protezioni speciali il secondo anno 10 mila protezioni speciali male sembra logico che ci sia una disciplina ripeto anche un po a maglie larghe che dia la possibilità di sanare delle persone che permanano sul territorio attenzione qual è il dato fondamentale che di quei 14 mila del 2022 che hanno ricevuto la protezione speciale sa quanti sono stati in grado di mettersi nel mondo del lavoro lavorativo italiano il 5,2 per cento cioè questi sono soggetti anche la favola che viene raccontata dagli la protezione speciale così poi loro vengono immessi nel sistema del lavoro il 5,2 per cento il che vuol dire che il restante 95 per cento rimane nel sistema di accoglienza a spese del contribuente questo è inaccettabile tant'è che il decreto cutro fa un'altra cosa dicono smantella l'accoglienza assolutamente no anche qui la perimetra cioè nel sistema di accoglienza con determinati servizi di reale integrazione perché sono persone che hanno diritto a rimanere sul nostro territorio tutti i servizi possibili e si entra nel sai i richiedenti asilo a cui ripeto poi nel 70 per cento viene respinta la possibilità di rimanere sul territorio che fanno ricorsi che permangono parecchio nel nostro territorio vengono immessi nel sistema dei centri governativi dove c'è il sistema di accoglienza ma non ci sono tutti i servizi che dai alle persone che poi rimarranno sul nostro territorio per sempre quindi queste sono cose che sono in questo decreto allora di gregorio